let's go benvenuti lupetti in questo nuovo video di spettamenti di carte pokemon oggi andremo ad aprire come detto nello scorso video come detto ieri la team di zatchan visto che gli abbiamo spacchettato la team di zamazenta oggi apriamo la team di zatchan vediamo un po leggendaria determinazione di ferro targata gara nella regione di gara niente più potente di una leggenda scegli la balda lama di zatchan v oppure l'estaldo scudo scudo di zamazenta v con le scato e la collezione leggende di gara del gioco di carte consorrabili pokemon ciascuna di queste imperdibili scato della collezione contiene un pokemon v dalla potenza incredibile pronto a sferrare fendenti difendere e trionfare nella tua prossima lotta pokemon non si è visto una mazza perfetto magari così è meglio se più o meno scusate ok in questa scatola la collezione troverai la carta olografica di zatchan v quattro buste dell'espansione del gioco di carte consorrabili pokemon è una carta a codice promozionale che come sempre regalo a voi quindi vediamo un po molto bello il fatto anche a me piace molto anche la plastica è bello come fanno con la plastica però preferisco quelle che fanno adesso con la carta su quello si allora vediamo un po facciamola uscire nel frattempo prendiamo anche il nostro accoglitore il nostro accoglitore la nostra busta protettiva per tenere la carta al sicuro e non so se l'ho fatto no ok qua anche la scatola è come quella di samazenta stessa identica e vediamo un po come cosa c'è sta carta quindi abbiamo spada indominata una sola volta durante il tuo turno puoi guardare le prime tre carte del tuo mazzo e assegnare un numero qualsiasi di carta energia presentita esse a questo pokemon aggiungi le altre carte a quelle che hai in mano se usi questa abilità il tuo turno finisce poi c'è bardalama durante il tuo prossimo turno questo pokemon non può attaccare ok quindi mettiamo qua la carta di zachan e speriamo dobbiamo avere due favore di belle e due sentine mentale ok sì speriamo che almeno visto che ieri non abbiamo trovato chissà che almeno l'ho intanto sinceramente queste due collezioni le prendo anche più di più per tenermi in collezione le scatole che sono veramente molto belle e niente anche se non trovo niente sinceramente spero una carta mi interesserebbe trovare che speciale una e sarei già contento quindi vediamo un po se almeno qua siamo fortunati cosicino 1,2,3,4,1,2 allora non mi sembra niente però non posso dirlo con certezza perché vedo che non c'è una carta nera quindi potrebbe essere una V Snover Binacre Darumaka di Galar Vulpiz Milchery Energia Char Riabug Shukre Cicerone noi abbiamo un Probo Pass Reverse e abbiamo un bellissimo Malamar V veramente molto bello che ritiriamo subito se riesco ad aprirla ok perfetto ok perfetto dentro vai iniziamo già bene dai vediamo un po le mosse trascinato via scambio di Pokémon nella panchina del tuo avversario con il suo Pokémon attivo questo attacco infilie 30 danni al nuovo Pokémon attivo poi già scuoti mente il Pokémon attivo del tuo avversario viene confuso ok mettiamo uno qua vicino alla Zamasenta mettiamola e vediamo un po allora il primo pacchetto siamo tutti già fortunati quindi va benissimo allora queste le metto già via qua insieme all'altra insieme a quelle di ieri di fragole di belle perché lo spacchettamento lo sto facendo subito dopo quello di ieri quindi vediamo un po codicino 1 2 3 4 1 2 ok non mi sembra niente no non c'è niente ok Tossel Lictwick Loaded Loaded Crefari Vortorb Energia Fuoco poi abbiamo un Dracloak Minia di Garar Lampent uno Squovette e Reverse un altro Zamasenta che avevo già in versione Olo ok ok mettiamole via adesso andiamo con le ultime due di sintonia mentale perché poi per trovare delle team vecchie è anche molto devo dire bello perché essendo che sono vecchie si trovano bustine vecchie quindi potrebbe potrebbe però non ne sono sicuro vediamo Wimpod Slakot Saladit Saladit Bonesuit Saladit Energia Acqua Città Polare Winout Tipo Zero uno Yanmega Reverse e uno Steliz ok 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 va bene abbiamo ancora una bustina di sintonia mentale quindi possiamo ancora trovare qualcosa dai ti prego ancora una che finiamo meno lo spacchettamento alla grande che già speravo sinceramente di trovare anche qualche carta in più speciale però vabbè vediamo un po' Drifron Death Pider Druttigon Cotton Fomantis Energia Erba Musciarna Cortesia di Misti Noctom un Kangashan Reverse e finiamo con un S-Guttor ok almeno oggi abbiamo trovato un Malamar V che mi mancava in collezione quindi sono molto contento e anche per avere anche poi la carta di Zasan e la carta poi anche di Zamasenta abbiamo spacchettato ieri promo che anche queste carte vanno in collezione e ricordo che queste carte qua non si possono trovare dentro le bustine ma solo nelle diverse collezioni quindi queste due erano nelle collezioni teen quindi io vi saluto e vi aspetto domani con presumo uno spacchettamento di Pokémon Go però potrebbe anche uscire quello di Morpeco quindi finché non avrò compratto qualcosa di nuovo non lo potrò sapere quindi ci vediamo domani con un qualsiasi spacchettamento